messaggio della madonna 19 ottobre 2019 la beata madre è venuta di nuovo dal cielo per comunicare il suo messaggio materno oggi ha pregato per la conversione dei non credenti e per coloro che non hanno ancora aperto il loro cuore alla chiamata di dio ci ha dato il seguente messaggio la pace miei figli amati la pace figli miei io vostra madre vengo dal cielo per chiedervi di non allontanarvi mai dalla vera fede e di non abbandonare la chiesa di mio figlio gesù non vi lasciate abbattere o vincere da ciò che verrà e sarà accettato come qualcosa di buono ma ciò non proviene da mio figlio gesù non proviene dalla volontà dell'eterno padre figli miei i tempi sono cattivi molti dei vostri fratelli perderanno la luce dei loro occhi e delle loro anime e cammineranno in questo mondo come ciechi che conducono altri ciechi recitate rosario per vincere ogni menzogna e seduzione di satana che è nella casa di dio per ingannare anche i più seri fedeli molti cadrano e non si alzeranno mai perché non hanno pregato e non pregano come vi ho chiesto non allontanatevi dal mio cuore materno consacratevi quotidianamente ai tre sacri cuori e riceverete la grazia di rimanere fedeli a dio fino alla fine sono qui per guidarvi per condurvi lungo la buona strada che conduce al cielo vi amo figli miei vi amo immensamente ritornate le vostre case con la pace di dio vi benedico tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amè grazie a tutti